Nessuna strumentalizzazione sulla nomina del collegio dei liquidatori dell'AMIU, il sindaco Nicosia, proprio per evitare polemiche, in una lettera al presidente del consiglio, Salvatore Di Falco, e al segretario generale del comune, Paolo Reitano, annuncia che per la nomina attenderà la fine delle elezioni regionali in maniera tale da evitare di essere frainteso. Per Nicosia si tratta di un forte segnale etico. Qualunque nomina da parte sua, chiarisce il primo cittadino, avrebbe potuto essere interpretata come una manovra elettoralistica e non volendo inquinare con possibili interpretazioni forguianti un fatto importante come la scelta dei liquidatori dell'AMIU, comunica quindi che fino alle elezioni avvenute per motivi di etica politica, di buon governo della cosa pubblica e anche in virtù dei principi contenuti nel codice etico approvato e che si è imposto di rispettare, eviterà tali nomine. Nicosia rimarca anche la differenza con quanto sta avvenendo a livello regionale, con chi ha approfittato degli ultimi giorni utili per fare nomina raffica e ovunque possibile, suscitando il giusto sdegno della gente per bene. Il sindaco di Vittoria invece, dice Nicosia, sceglie di nominare i liquidatori dell'AMIU alla fine di questo delicato momento elettorale.